buongiorno sono franco baldasso professore di studi italiani appresso il bar college in new york e parte della redazione di allegoria sono molto lieto oggi di poter presentare un lavoro che abbiamo fatto insieme alla redazione su un libro molto importante che ha sollevato dibattiti critiche anche presi posizioni forti negli stati uniti il suo titolo è professing criticism e tradotto in italiano il sottotitolo diventa saggi sull'organizzazione dello studio della letteratura e l'autore è john gilory professore della new york university dove ho avuto la fortuna di fare il dottorato e una voce importante del dibattito critico americano perché questo libro importante perché abbiamo deciso di discuterne su allegoria beh prima di tutto solleva il grosso problema di cosa vuol dire oggi professare la critica la tesi fondamentale del libro è che nei nostri istituti nell'accademia occidentale ovviamente il punto di riferimento sempre l'accademia americana per questo libro chi lo è un professore di letteratura inglese quindi il global english è il suo punto di riferimento appunto in queste istituzioni c'è stata una sostituzione storica e gilory percorre il tragitto storico per arrivare a questo tra insegnare la letteratura e invece professare la critica cosa vuol dire questo vuol dire che secondo gilory a livello storico dopo un tragitto molto ampio che parte dall'ottocento in cui il critico di professione realtà un critico amatoriale ed è diventato istituzionalizzato anche per un certo isomorfismo con le altre con le altre discipline in particolare le discipline scientifiche ma non solo tipo anche sociologia e atropologia che hanno avuto un successo suo appunto l'ambito della ricerca e l'ambito della disciplina non è più soltanto lo studio della letteratura ma anche il fare critica il criticare il mondo criticare ovviamente le ideologie e quello che è al di fuori la letteratura ora tutto questo discorso sembra molto interessante e sembra anche in un certo senso parte di quello che è il nostro lavoro di accademici e anche di critici letterali che appunto diventano critici culturali il loro però fa un discorso molto molto specifico che questo a lungo andare in qualche maniera non soltanto squalificato il lavoro il lavoro critico perché è evidente come la letteratura non sia più al centro del discorso culturale ideologico in senso ampio non abbiamo più ovviamente come nell'ottocento discorso culturale che si basa sulla letteratura altri sui punti di riferimento ma ha squalificato anche il testo letterario stesso perché da una critica della critica al testo si è passata si è passato a far diventare il testo letterario un sorogato di altri discorsi questa è la tesi principale e ghilori una persona estremamente erudita e che ha partecipato ai dibattiti degli ultimi decenni ovviamente fa una critica circostanziata non soltanto a livello letterario e anche degli istituti letterari ma soprattutto a livello di sociologia delle delle professioni sociologia delle istituzioni ora ripeto questo è il discorso di base in soldoni si è passato da fare letteratura a parlare della turatura dare valore alla letteratura a usare il discorso critico come materia di scambio nel mercato possiamo dire della della rilevanza sociale ovvero far diventare il discorso sulla critica letterario una maniera per riportare in auge uscendo dal testo letterario parlando del contesto più che il testo il nostro mestiere questo ovviamente quando è uscito negli stati uniti ha creato un debattito enorme molti sono stati di trattori alcuni hanno detto forse se facciamo una genealogia del fatto probabilmente possiamo tracciare diverse situazioni che raccontano le disfunzioni del mestiere e anche del mercato del lavoro oggi e questo ci ha portato a voler tradurre la prefazione all'interno di allegoria e ovviamente abbiamo avuto un dibattito molto ampio dobbiamo a mariana mariani che lavora come me negli stati uniti lavora chicago l'idea di discutere pubblicamente questo libro è infatti il numero di allegoria c'è un'ottima introduzione fatta da mariani che raccontano soltanto il testo ma anche il dibattito che ne ha seguito e vi invito a leggerlo con punti di vista estremamente diversi abbiamo poi tradotto per la prima volta in in italia appunto alla prefazione per dare per dare valenza a quelle che sono le parole stesse di ghiglioli la sua maniera di approcciare il discorso e anche appunto le i termini che usa per questo discorso dal surrogato il giomorfismo che diventano dei come dire delle maniere abbastanza anche chiare visto che comunque il dibattito sulla sulla crisi della critica è decennale maniera chiare per porre o almeno per provare a porre la questione in termini diversi il discorso è molto ampio però serve interessante magari dire cioè dare almeno alcuni spunti di quelli che sono stati gli interventi poi pubblicati all'interno della rivista che sono soltanto una parte di una discussione che si è protatta per per diverso tempo parto da l'intervento di michele esisto che ha appuntualizzato appunto appuntualizzato come questo libro sia basato su un discorso storico e su un oggetto storico e secondo me è molto interessante vedere come ghiglioli ha descritto in maniera approfondita la condizione che vi chiama post retorica ovvero ha fatto una sorta di storia del della valenza degli studi letterali all'interno delle istituzioni dopo dopo la retorica che era il punto di partenza per gli studi umanistici per creare l'elite del passato si è passati a un discorso da una parte filologica dall'altra bellettrista con riferimenti specifici alla cultura francese e tedesca che in qualche maniera hanno delimitato il campo hanno cercato di dargli valenza scientifica e anche un uso sociale e il discorso che fa che fa assisto è molto interessante perché racconta come in un certo senso questo capito questo passaggio del libro ci dà la possibilità anche di ripensare il testo nel suo contesto storico e da qui parte una discussione più ampia l'intervento che ho scritto io invece si concentra su un passaggio diciamo successivo in certo senso su quanto il che ho trovato molto interessante del libro di idoli è un capitolo specifico su documento e monumento su come la teoria della letteratura non può oggi non pensare a letteratura non soltanto come documento storico e ogni documento se visto in termini eh più ampi non può eh ha sempre rischio di diventare surrogato di un discorso che vuole essere sempre altro e magari lascia da parte il testo letterario stesso ma anche come un testo letterario anche un monumento del passato eh siamo oggi in una situazione in cui eh i monumenti sono contestati lo sono sempre stati però eh questo oggi è particolarmente presente nei media sono contestati perché i monumenti del passato raccontano un passato che vogliamo in qualche maniera cancellare giustamente perché eh fa parte del del retaggio che non vorremmo più nel futuro l'unico discorso è questo se cancelliamo i monumenti del passato anziché studiarli probabilmente non non cancelliamo il problema il problema rimane soltanto eh non lo vediamo più e questo se posso aggiungere diventa un problema molto forte quando eh non soltanto ci si mette a posto con la coscienza ma di ma soprattutto si pensa di ritornare agli studi letterari come un discorso eh al di là della alfabetizzazione ma per dare un concreto su come dire ehm su strato culturale eh al neoliberismo molte università di elite stanno eh giustamente pensando a questo come rintrodurre questi schemi retorici questi schemi letterari anche come eh sostegno al al discorso economico il che per sé non è una cosa negativa il discorso però più ampio è che eh le università per esempio europee basate su welfare state cosa molto diversa da un'università americana in cui lavoro avevano almeno l'idea di portare a non dico la alfabetizzazione o almeno una cultura più ampia un gran numero di persone il problema però è anche questo si sposta ulteriormente e qui vado al discorso che fa Valentino Baldi che questo approccio questi approcci che propone ehm Ghilori sintetizzano e evidenziano al stesso tempo delle profonde ambivalenze nel nostro mestiere da una parte quello che da decenni ormai in vari libri come quelli di Terry Eagleton come Cesare Segre o stesso Luperini hanno raccontato della crisi d'architica l'irrilevanza sociale. D'altro canto invece il fatto proprio di cercare di riacquistare questa rilevanza ma mantenere l'ambivalenza tra quello che è che si vorrebbe fare con questo lavoro e quello che invece sono la realtà e e queste realtà per esempio Gloria Scalfone nell'ultimo intervento di questa sezione le ehm le sintetizza molto molto bene l'habitus dell'uomo academicus e Bordier è uno dei riferimenti costanti di tutti questi interventi e anche dello stesso Paul Ghilori eh e la maniera invece di che Ghilori critica anche eh acutamente ma comunque in maniera anche protatta eh le cosiddette topicalities ovvero sostituire lo studio dei test letterari con temi con ambiti con ambienti che di per sé non è sbagliato ma che sostituisce e diventa un surrogato per ehm per un discorso politico sociale che ehm dall'altro punto di vista il professore di letteratura italiana inglese francese cinese ehm non ha più e vorrebbe avere c'è però un ultimo discorso che Gloria Scalfone fa e e che trovo particolarmente eh pertinente e vorrei giusto leggere uno dei passaggi critici che lei fa per commentare per concludere questa mia presentazione del del libro in questione allora vado al testo che Gloria Scalfone ha scritto per allegoria e lei conclude parlando proprio del problema della razza o della disciplina e delle e delle proposte che Ghilori fa alla fine per come dire rivalutare la disciplina del professore di 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 lettere in un certo senso e mh dopo la pars destruens di tutta quanta la sua impalcatura in cui secondo me ehm sembra anche la parte più più forte più importante perché comunque da delle basi storiografiche come anche stesso Michele Sisto ha puntualizzato eh a tutto il discorso che stiamo facendo arriva il capitolo finale che è la parte la pars costruens e e Scalfone racconta come si è trovata anche a disagio a a sentire questi ehm come dire rationales in inglese ovvero dei punti forti in cui eh per cui eh per cui la nostra professione un domani potrebbe ritrovare una come dire una propria legittimazione ehm e sono comunque a livello storico sociale del valore della cultura che in un certo senso è anche eh eh il valore delle humanities in generale che in un certo senso sono cose che abbiamo sentito tante volte e lei fa riferimento però come eh 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 siamo arrivati siamo arrivati a un discorso quasi di baratto ovvero dobbiamo far vedere eh come queste questioni hanno un loro una loro ricaduta economico sociale e e leggo direttamente quello che scrive Gloria ma il punto è che il senso ha proporre delle soluzioni aleatorie di comune buonsenso al termine di un libro il cui principale merito è mostrare chiaramente quanto i campi che non hanno una relazione organica con il sistema economico soffrono di una vulnerabilità intrinseca ora eh ci sono molti altri punti di questo importante libro professing criticism di John Guillory che eh meriterebbero attenzione però io penso che concludere con questa domanda aperta fatta da fatta da Gloria Scarfone sia importante anche per ripensare eh insieme come ad altre tradizioni come quella americana di pensare lo statuto della nostra professione oggi